Beh, seccato la bestiaccia delle teste, si può proseguire, no? Di là è chiuso, quindi... La scelta mi sembra semplice e ovvia. No, no, facciamo cazzate. Granata, serve sempre. Oh, si va giù di là! Che meraviglia! Dai! Ok, hallo? Eccolo! No comment, please, no comment! No, 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 no! Niente, uno non ci prova, ma... In testa si può per caso rifare. No. Sembra proprio di no. Ma porco il cazzo! Rilevate. Fratture di minore in emergenza. E' una passante fancule. Qui è? Allo? Pizza Char! Aiaiaiaiaia! Cazzo! Che schifo è sta cosa! Oh! Che schifo! E' la? Molto! Molto mo' munizioni! Subito! dove siamo? dove cazzo? siamo finiti carica, carica, carica hai visto la piattaforma che andava via? allora, piattaforma? ah, ok, non è una piattaforma, sono schifezze vale la pena andare sopra questo punto e progressare il suo così e adesso? mi sa che devo saltare su questo su questo dai, 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 dai dai, dai, dai parco ma allora vaffanculo Ciao a tutti è stato bello Ciao a tutti è stato bellissimo Sto cubo Di roba verdastra Ciao a tutti è stato bellissimo Merda ha finito l'aria Dire di andare a fare quello che dobbiamo fare Merda Ma non ci credo Quindi se io mi butto Ma porco Niente Niente Oh e poi li sacco di su di qua E muoiono Morirò di brutto E adesso E adesso che sono qua Ma no ma sono tornato Al punto di prima Ah posso scendere di lì Dunque Cosa abbiamo qua Cosa abbiamo qua Si è aperto Il barco Pronti a fare il culo a chiunque Spavento Non ho capito Non ho capito ma vai a fa' un culo però Non ho capito ma Non ho capito ma Non ho capito ma Non ho capito ma Non lo faccio ma Non ho capito ma Non ho capito ma Non ho capito ma è che quei cosi qua ti serviranno un sacco ho proprio questo presentimento pronti madonna nooo è indiquata eh ma non si... non si può sbucare indietro vabbè tra l'altro lo devo far notare anche con lo strazzetto che via guardare so mi sento un pò confuso Mister, se riuscite a far ripartire la corrente, potrebbe non ci porterà dritti in superficie. Ci porterai io stesso, ma la strada fino al generatore è molto lunga e ci sono delle... cose lungo il cammino. Penso che a questo punto bisogna far muovere il carrettino. In qualche modo. Power generator, mi sembra una buona idea andare a fare queste parti. Si cozzo. Chi ha? Passiamo al di qua. Sì, bene così. La quetta. Direi di chiudere questa volta. Quasi tutto tranquillo. Dove cazzo sta che mi sparo addosso? me ne è. Il mio caro vecchio amico. Oh Oh Chi ha? Si cazzo Ah ma se qualcuno ha qualcosa da dire Non c'è come chiedere eh, se qualcuno cosa sa dire Non c'è come chiedere eh, se qualcuno cosa sa dire